Il 2017 non ha centrato nemmeno una delle aspettative che aveva alimentato. Non è stato l'anno dell'avvio dei cantieri del patto per la Sicilia e gli edili sono ormai un terzo di quanti erano prima della crisi. Non è stato l'anno dell'avvio della soluzione dei tanti dossier aperti. Terme, Italcementi, Talcali, Cupa, Ex Provincia e Cattedrale. Insomma, restano ancora aperti i problemi, anzi si aggravano. Massimo Raso, segretario provinciale della CGL di Agrigento, analizza l'anno che sta per andare in archivio e allo stesso tempo si proietta verso il 2018 che verrà. Sullo sfondo, dice Raso, i problemi di sempre si trascinano, la criminalità continua a prosperare ed Ignazio Cutro non ne scorgiamo ancora tanti. Acqua e rifiuti continuano ad essere servizi salatissimi e poco efficienti. Sui migranti continuano gli affari e non si lavora affatto sul terreno dell'integrazione. La povertà, relativa e assoluta, è cresciuta così come non accenna a diminuire il numero di persone, soprattutto giovani, che lasciano questa terra perché non è qui che trovano la possibilità di realizzare i loro sogni e bisogni. La sanità si dibatte con i problemi di sempre e il conto lo pagano i malati, specie gli anziani non autosufficienti e le persone con disabilità, di cui ci si ricorda solo nelle campagne elettorali. Andare a Palermo dalla statale 189 è divenuta un'odissea. La precarietà continua ad essere il tratto dominante dei rapporti di lavoro. L'incertezza continua a segnare il futuro dei precari, dei forestali, di quanti hanno a che fare con il bilancio della regione che, unica nota positiva, ha archiviato l'era crocetta. Il 2017, sempre nel campo del lavoro, è stato segnato da nuove morti sul lavoro, emblematica la vicenda della diga furore e da fatti che sembrano venire da un'altra epoca i taglieggiamenti sulle buste paga allicate ad Agrigento o i licenziamenti selvaggi alla tua, ma che invece segnano e permeano più di quanto non si pensi l'attuale mercato del lavoro. Certo, c'è anche qualche piccola luce, la conclusione positiva dei lavoratori della Caccia Estruzzi Belice o quella dei precari cococoata della scuola. Non sono mancati tanti piccoli e grandi fatti positivi che sono lì a confermare che sarebbe possibile costruire una provincia diversa che si dà nuove ambizioni e nuovi progetti. Penso alle nuove scoperte archeologiche della Valle dei Templi, aggiunge Raso, una valle che vince il premio paesaggio e che torna ad essere più attrattiva e meglio governata. Penso alla candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura 2020 e al finanziamento di alcuni interventi sul centro storico. Questi segnali vanno alimentati, va costruita una rete di soggetti istituzionali, economici e sociali che definiscono una serie di priorità e si battano insieme per realizzarle e invertire questa tendenza. Noi continuiamo a ritenere che sia possibile cogliere le opportunità nazionali e comunitarie e inserirle in un piano di sviluppo complessivo. Per fare questo occorre più umiltà, rinunciare a dannose primogeniture e lavorare insieme per il bene comune, mettendo al primo posto dell'agenda di tutti la necessità di creare lavoro nuovo e buono. Il 2018, come tutti gli anni, la CGL Agrigentina lo comincia a sciacca, ricordando il 71esimo anniversario dell'assassino di Accursio Miraglia. Nessuna retorica, né un guardare sempre al passato, l'esigenza di ricordare quello straordinario movimento, un'autentica guerra di liberazione del feudo, e la necessità di ribadire che ieri come oggi la lotta alla mafia e per il lavoro costituiscono la nostra mission. Il 2018 sarà l'anno delle elezioni politiche, dove speriamo si affermino le forze che hanno a cuore i problemi del lavoro e non considerano i corpi intermedi e il sindacato come un problema o un ostacolo. Continueremo il nostro impegno, conclude Massimo Raso, con la passione di sempre e cercando sempre di più di rafforzare una CGL che sia dei lavoratori e dei pensionati, e sia ritenuto innanzitutto da loro uno strumento di salvaguardia, di difesa e di avanzamento di diritti e conquiste.